Bella raga, buonasera. Dunque si è concluso anche il posticivo delle ore 18 di questa trentunesima giornata di campionato dove l'Udinese incappa nella settima sconfitta consecutiva alla Dacia Arena al cospetto di una strepitosa Lazio che vince 2-1 col brivido finale per il palo colpito da Jakub Janktu. Un Ciro Immobile ancora mostruoso, ancora in spolvero, un gol e un assist è ancora decisivo. decisivo Ciro Immobile, 27esima rete in campionato per lui, la 35esima stagionale. Dunque, che dire ragazzi, io chiedo supporto al mio amico Cartal, di quelli che dicono che Icardi forse è più forte di Immobile. Ragazzi, io vi voglio spiegare la differenza tra un top player, cioè Immobile forse non è neanche un top player, tra un grande attaccante e un grande finalizzatore. Il grande attaccante è colui che ti tiene la palla, ti fa sportellate, ti protegge il pallone negli angoli, come ha fatto Belotti oggi, due volte l'ha fatto Belotti procurandosi due falli sulla bandierina, perdite di tempo, perché le punizioni sono comunque perdite secondi che passano preziosi per la squadra che vince, e in più nessuno come protegge il pallone. Icardi questo non lo fa, Immobile ti fa la sponda, oggi ti ha fatto l'assist per il gol del vantaggio della Lazio, e ti ha segnato il pareggio, perché la Lazio era andata sotto, e dunque ragazzi, i veri attaccanti sono questi, sono coloro che ti fanno il gioco, ti fanno salire la squadra e te la tengono alta, ti vanno a recuperare i palloni a centrocampo, cosa che il vostro, cioè, Icardi carinteristi non lo fa quasi mai, forse mai, ma non lo sto dicendo io, lo dicono stesso gli interisti, quindi, ragazzi, attaccanti come Immobile, Belotti, Higuain, e anche Milik, forse, anche se l'abbiamo visto poco per giudicare, cioè, sono attaccanti che sono alti, lo era ad esempio uno per citarne l'Inter, se non sembra che io sia contro l'Inter, che ne so, Cruz, Milito, e ho detto, oh, questi sono attaccanti che sono attaccanti, Icardi negli ultimi metri, 16 metri, quando è in forma, è strepitoso, per carità di Dio, non sto dicendo che una pippa, però, essere un grande attaccante è un'altra cosa. Comunque, la Lazio che agguanta la Roma, al terzo posto scavalca l'Inter, momentaneamente, cioè, non momentaneamente, per questa settimana scavalca l'Inter, l'Inter che per ora è al quinto posto, è fuori dalla zona, Champions League, e, dunque, una buona Lazio, quella di Simone Inzaghi, che si prepara ottimamente per la trasferta di Salzburg il giovedì, a cui va tutto il mio in bocca al lupo per un passaggio alle semifinali di Europa League. E chissà, se questa nuova Lazio, magari, non ci porta una Coppa Europea in Italia. Per il momento è tutto, ragazzi, in attesa di Milan Sassuolo, ci sentiamo dopo, e sempre fino alla fine. Ciao, guaiù!